Si formano tre pariglie, aumenta il ritmo di Ideal du Gazot, ma Song and Dance Man regge ancora molto bene al francese, Ideal du Gazot, Song and Dance che adesso però ha abbandonato, vinto dal ritmo del transalpino, mentre si sta facendo sotto della Sturra, almeno ci prova, con Speed Expert ancora in fuori. Ideal du Gazot, Song and Dance Man in fila indiana della Sturra, Speed Expert in dentro qui con l'India, quindi Mini Model e Doringo, mentre si è eliminato Nobel Move. Retta d'arrivo, Ideal du Gazot, ancora padrone della situazione, con Eugène Lefebvre che comunque lo sollecita, il cavallo viene su molto bene, mancano 80 metri al traguardo, Ideal du Gazot, mentre viene al secondo posto ancora Song and Dance Man e al terzo è della Sturra. Grazie a tutti.